Per le immagini di Nocerina, o meglio, città di Nocera contro Scafatese, ovviamente continuiamo a ringraziare, come abbiamo fatto anche nel servizio, gli amici di NocerinaLive.it Prima di tornare al calcio, alla Lega Pro, passiamo alla palla a volo, un'incursione dunque alla volley con la vittoria del Givova Scafati femminile contro Potenza 3-0. Vediamo il resoconto in questo servizio.